... ... ... ... ... ... ... ... provateci di nuovo, vedete che è facile provateci di nuovo, è facile farlo salto quindi è poco merda quando puoi sempre con tranquillità ma si salta eh nooo, così fanno 9 no, però tranquillo quando puoi che bruttoso, bruttoso grazie ah, è stato ah, è stato grazie 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 Sì, sì.